Bentornata, bentornato all'interno di questo format FibroTG dove ti do delle notizie veloci, dei tips sul dolore cronici, sull'ultima ricerca e su varie anche curiosità. Oggi andiamo ad analizzare uno studio scientifico veramente interessante. Gli scienziati hanno individuato una cellula immunitaria che invade le cellule nervose. Lo studio è della biologa molecolare Sarah Kashera, spero di averlo pronunciato bene, della Queen Mary University of London. Lo studio è stato fatto sui topi e nel 2021 praticamente sono stati introdotti degli anticorpi, i neutrofili all'interno del corpo, di persone fibromialgiche all'interno del corpo dei topi. Che cosa si è visto? Si è visto un aumento nella sensibilità del dolore nei topi, che si sviluppava un'ora dopo, cioè molto veloce. Si è sviluppata una vera e propria sindrome autoimmune e anche un'alterazione nella percezione del dolore, solamente appunto iniettando dei neutrofili all'interno del corpo del topo. Adesso andiamo a vedere i risultati, però la prima cosa è che questo studio è molto importante perché rafforza la correlazione che c'è tra il sistema immunitario e il sistema nervoso. Il sistema immunitario perché appunto iniettando dei neutrofili, che sono delle cellule del sistema immunitario, si è visto un effetto sul sistema nervoso. Si parla spesso in fibromialgia che la ricerca punta molto sul cercare delle connessioni tra sistema nervoso e sistema immunitario. Ecco uno studio che conferma ancora una volta questa unione fondamentale. Intanto che cosa sono i neutrofili? Qualcuno può non saperlo. Sono delle cellule del sistema immunitario che sviluppano una immunità innata, si chiama, cioè un'immunità molto veloce. Arriva il patogeno dentro il corpo, i neutrofili hanno una risposta molto veloce, però poco specifica. Quindi se vogliamo non così efficace come un'altra cellula specializzata per quel tipo di patogeno. Però appunto il lato positivo è che è una risposta molto veloce e parte subito. Ma che cosa si è visto all'interno dell'esperimento? Come relazioniamo questi neutrofili al sistema nervoso? Te lo spiego subito, in parole molto semplici. Praticamente i neutrofili di solito, come tutte le cellule del sistema immunitario, non interagiscono con il sistema nervoso. Vuol dire che queste cellule che vagano all'interno del nostro corpo non invadono i nervi, le cellule nervose, non vanno vicino ai nervi. Nelle persone con fibromialgia si è visto di sì. Quindi queste cellule invadono il tessuto nervoso. Quando si sono inserite queste cellule all'interno dei topi è successo esattamente questo. Queste cellule hanno invaso i gangli del sistema nervoso periferico e hanno instaurato un'infiammazione, una sindrome fibromialgica e questo ha influito nel processamento del dolore. Quindi dai nervi periferici abbiamo avuto un effetto sul sistema nervoso centrale, siamo andati nel midollo spinale. Quindi le cellule nervose del midollo spinale hanno avuto un'alterazione del dolore, un'ipersensibilità del dolore come effetto dell'aver messo questi neutrofili alla fine nel corpo del topo. C'è stato tutto questo processo che è arrivato fino appunto al midollo spinale ed è riuscito ad intaccare la modulazione della percezione del dolore. Che questi esperimenti non siano etici sono il primo a dirlo, quindi se guardi questo video e hai una sensibilità sugli animali sappi che non appoggio questo tipo di esperimenti, si potrebbe parlare a lungo. Non è questo l'ambiente, il momento per parlare di queste cose perché è un format veloce dove voglio dare delle notizie. Però si potrebbe parlare a lungo di questi esperimenti che fanno sugli animali, sulla etica che bisognerebbe avere nei confronti dei poveri animali, anche se il fine è capire come curare gli esseri umani. Quindi per questo tipo di disquisizioni in un altro ambiente ne possiamo parlare. Intanto nello spazio commenti io sarei molto felice di sentire che cosa ne pensi, sapevi di questo studio, sapevi della correlazione tra sistema nervoso e sistema immune, conoscevi i neutrofili, sapevi un po' queste dinamiche, ne parliamo qui sotto. Io intanto ti ringrazio e ci vediamo alla prossima edizione. Grazie